Per quanto tempo ancora l'America continuerà a fingere che il mondo non è nulla, mentre noi costruiamo frigoriferi che i nostri nemici costruiscono polveri. Secondo le ultime intercettazioni, le unità operative giapponesi sono dirette a soli, a persone filipine e sulle stasiate. Qui è l'adio Uomo che trasmette la musica più piccina, insomma ti sono accettato a cittadini. Da Berlino, Roma e noi siamo stati dipinti da un'azione di impegni e di palipoi che paga soldati in paesi, russi e cinesi per farle combattere la cosa nostra. Provino a dire la stessa cosa. Provino a dire la stessa cosa é la binding, ribi d'acuto più piccina, Noi siamo in guerra, di rischi ce ne sono tante. Grazie.